Ciao a tutte e tutti, sono Rebecca Gazzola, ho 22 anni e vivo a Milano, dove sono nata e cresciuta. Ho una formazione prettamente teatrale, lo pratico da 12 anni, ho portato in scena 15 spettacoli e insegno anche teatro in una scuola elementare. Dal 2020 circa ho deciso di formarmi anche nel cinema e ho frequentato varie masterclass e corsi sia in classi intere sia individualmente. Al momento sto anche cimentandomi un pochettino nella danza moderna e sto realizzando un progetto ideato da me in collaborazione con un'agenzia di Milano di moda e pubblicità che si tratta di una coreografia di danza moderna che rappresenta il concetto dell'amore tossico. Sono una persona abbastanza sportiva, pratico box da 4 anni e parlo bene inglese e francese e ho un accento principalmente nordico ma mi riesco ad adattare al siciliano, napoletano e romano. Grazie!